Ora qui voglio fare una lista dei corsi, dei miei corsi, dei miei corsi, delle puntate dei miei corsi e visti praticamente su YouTube, quelli che ho più la data. Per far questo creiamo qui una cartella che chiameremo models. Qui creeremo delle classi di definizione per i nostri dati. Il primo, la prima classe che andiamo a chiamare sarà project. Project intendo il filone del corso, quindi project intendo magari flutter o intendo flutter o angular o altri progetti che magari andrò a fare in futuro. Quindi definiamo la classe, project, e qui ci mettiamo le property di questo, diciamo, DTO. Allora, string, magari il primo sarà project name. E poi la seconda property sarà la lista dei video. Come si fa a definire una lista? List è un generico, vuole minore e maggiore è un generico, ma la vedremo magari un po' più avanti, un po' più in dettaglio. La lista è in questo momento ci mettiamo tanto di string. e chiameremo videos. Ora, mi sta dando un errore. Innanzitutto perché mi dice che non può essere un onnullabile, cioè dovrei metterci il punto di domanda. Ma quello che ci dà la possibilità, intanto qui posso marcarle final. Perché posso marcarle final? Perché qui, su questa classe, è meramente una classe di DTO. Quindi posso marcarle tutte e due tipo final. In questo modo. A questo punto, se vado sulla lentina rossa, mi dice o ci aggiungi il late modifier, che vedremo più avanti, oppure crea un costruttore per i campi di tipo final. In questo modo, qui dà l'esempio. Vedete? Fa un project con this project name e this video. Oppure, crea un costruttore con i campi di tipo final, di tipo required name. Quindi non positioned, ma named. A noi, in questo momento, diciamo il position. Ok? In questo modo. Quindi, lo portiamo su, in maniera tale che il costruttore sia sempre intestata. E abbiamo la nostra, diciamo, è una specie di classe di DTO. Facciamo un'altra cartella, qui, un'altra directory. Chiameremo DATA. Qui mettiamo una classe, che chiameremo MYCURSES. Quindi la definiamo MYCURSES. Cosa dovremmo usare? Dovremmo usare questo project. Quindi, andiamo a importare, package, vista come l'abbiamo chiamato, courses, models e project. Quindi, ci andiamo a prendere la classe project che abbiamo fatto prima, e qui definiamo, anzi non è neanche una classe, non è una classe. È una costante, dove, che chiameremo MYCURSES, e che ci darà un array di project. Quindi, il primo project, che voglio definire qui, è ANGULAR. E il video è una lista, una lista di stringhe. Quindi, in pretesi quadra. Qui ci metteremo DATA BINDING. Poi, ci metteremo DIRECTIVES. Poi ci metteremo SERVICES. E questo è il primo progetto. Il secondo, magari lo copiamo, in questo modo, è FLUTTER. E come corsi, come video, avremo FLUTTER 1, e quello di questa serata, che sarà FLUTTER 2 FINAL. Adesso mi piace. Benissimo. Quindi abbiamo definito, diciamo, due progetti, uno è ANGULAR, uno FLUTTER, con tutti quanti i video dentro. E li vogliamo far vedere qui. Quindi, andiamo nella nostra schermata. CURSES. Allora, abbiamo messo, appunto, il primo test, che sarebbe il titolo, no? Il primo sarebbe il titolo, quindi già qui capiamo che il center ci serve. Eccolo qua. Facciamo un VRAP con un COLUMN, in maniera tale che posso mettere più widget qui dentro. Magari facciamo un REFORMAT. Eccolo qui. Perché salta fuori così brutto? Ah, perché non ci ho messo la virgola. Ricordate, con la virgola, poi facendo la reformatazione, formatta il codice. Allora, qual è l'idea? È avere un titolo. Dopodiché, avere il nome del progetto. In questo modo, poi vogliamo, magari ci mettiamo uno spazio, 8 di 10. E infine, magari metterci un bottone, mettiamoci una funzione vuota, con il corso video. Facciamo un video, video 1. Andiamo a copiarlo. Video 2. Copiarlo. Video 3. Adesso, se adesso salviamo, rinfreschiamo, ecco qui, è tutto quanto in alto. Quindi, main access element, lo mettiamo centrato. Facciamo un refresh, perfetto. Adesso sono tutti quanti, vedete, qui in centro. Magari, cursus, lo stacchiamo un po'. Sarà il titolo. Mettiamo uno spazzito di 30. Se vedete, però, diciamo che non è proprio carino. Vi faccio vedere. Noi abbiamo sempre usato il size box per distanziare i vari elementi. Allora, qui abbiamo il center. Se io qui ci metto il size box e faccio refresh, adesso me l'ha allineato tutto quanto a sinistra. Se adesso qui ci faccio il width e ci faccio il double.infinity, adesso me l'ha rimesso in centro. Perché prima che non c'era il width, mi ha preso soltanto la larghezza determinata dal contenuto. Se poi specifico il width in questa maniera, a questo punto prende tutto lo spazio. Siccome qui gli ho detto di centrare gli elementi, a questo punto ha centrato tutti quanti i valori. se qui metto center, poi qui ci metto cross axis alignment stretch, a questo punto mi fa lo stretch di tutta quanta la nostra applicazione. Ma ovviamente così, fatto in questo modo, non è proprio carino. Vi faccio vedere, comunque sia, se qui invece metto center, metto uno space around. Vedete, lo space around, ad esempio sulla verticale, pensiamo su un column, per ogni elemento gli dedica uno spazio, compreso il size box. Cioè, anche se il size box è alto 10, ci avrà un suo spazzetto. Perché? Perché il space around, per ogni elemento, lui ci mette un widget. Quindi qui c'è un widget che prenderà uno spazio, poi c'è il size box che prenderà un altro spazio, che sono tutti quanti uguali. Ti vediamo un attimo come salta fuori. Sì, non è proprio carino. Allora, intanto il titolo lo voglio centrare. Text align, text align, center, faccio così, centro il testo. Lo stesso posso fare per il project. Text align, center. E così abbiamo centrato. Ovviamente, bisognerebbe metterci anche, magari, così proprio attaccato alla fine della schermata, non è proprio carino, no? È un po' bruttino. Bisognerebbe un attimino distanziare quelle che sono distanze, no? Cioè, mettiamoci un bordo. E allora, qui, che possiamo fare? Andiamo qua. E qui ci mettiamo un bel container. Se salvo e rinfresco, non è cambiato niente. Ma il container ci dà la possibilità di aggiungerci un margin. Il margin, qui, è un'altra cosa che non abbiamo ancora visto, la vediamo stasera per la prima volta. Ci dice che è una property di tipo Edge Insights Geometry. Se andiamo a vedere Edge Insights, qui abbiamo dei metodi. Ad esempio, se volessi avere un margine su tutto il bordo, gli dico All di 20. Quindi mi metterà un margine di 20 pixel sia qui, sia qui, sia qui e sia qui. Se adesso andiamo a rinfrescare, ovviamente in verticale non vedremo, ma possiamo far così. Io lo metto come start, per farvi vedere. Se lo metto nel start, lo allinea qua. Se tolgo via il margine, andrà sopra. Guardate, ecco, è andato sopra. Quindi, facendo il margin con Edge Insights All di 20, a questo punto lo spazia. Ma oltre all'All c'è anche il symmetric. Quindi posso dirgli che in verticale mi fa uno spazio di 50 e in orizzontale uno spazio di 20. Che cosa significa? Significa che metterà 50 pixel qua, 50 pixel qua, 20 qua e 20 qua. Quindi 20 a sinistra, 20 a destra, 50 sopra, 50 sotto. Andiamo a rinfrescare, vedete. Oppure, qui, un altro modo è from LTRB. Cosa significerebbe? From left, top, right button. E sono tutti quanti dei parametri di tipo positioned. E bisogna definirli tutti. Ma se volessi soltanto dirgli, metti un margine solo a sinistra, posso usare l'Only. E a questo punto qui posso dirgli, metti 20 pixel sulla sinistra. Poi vedo che c'è, qui è troppo attaccato. E posso dire, mettimi al top 50 pixel di margine. Ecco. Ovviamente, sulla destra, il bottom non possiamo apprezzarlo, ma sulla destra non c'è margine. Allora, in questo caso, metteremo un symmetric. E diremo che in orizzontale voglio 20 pixel. E voglio centrato in verticale. Questi pulsanti, diciamo, non sono proprio quello che mi aspettavo. Diciamo che un'applicazione del genere probabilmente nessuno la prenderebbe. Ora, qui mi piacerebbe stilizzare, diciamo, il bottone. E quindi, questo l'abbiamo anche già visto, che faccio style. E from style from. E qui posso metterci un background color. Background color, ad esempio, potremmo metterci un blu. Oppure, visto che sono dei video di YouTube, potrei metterci un rosso. E magari il for color metterci bianco. In questo modo. Facciamo un reformato del code. Eccolo qui. E magari così salta fuori un po' più carino. Però, io ho altri bottoni. Come faccio? Dovrei fare copia, incolla e via dicendo. Ovviamente, se poi devo cambiare colore, qualcosa, dovrei farlo per tutti quanti bottoni. No, non lo facciamo. Che facciamo, invece, a questo punto? Se dobbiamo stilizzare, ad esempio, un bottone per renderlo magari più, anche riutilizzabile al di fuori della schermata, ma proprio per l'intera applicazione, creiamo un nuovo componente. Allora, sistemiamo un attimino. Allora, sistemiamo un attimino. Qui dividiamo, facciamo screen. Ma in tale che avremo i widget e screen, dove c'è il cursus e lo start. Creiamo un nuovo dart file. Qui mi scriveremo custom button. Andiamo a prenderci il nostro bottone. Lo mettiamo nel nostro custom button. Class custom button. Anzi, lo chiamiamo YouTube button. YouTube button. Era meglio se facevo stiless. YouTube button. E nel ritorno, quello che avevamo incollato. Quindi, andiamo a importare la libreria. Non cupeternum, ma material. Benissimo. Ovviamente, questo bottone deve avere il testo variabile. E ormai avete capito come si fa. Final string text. E basta. E qui la andiamo. Dovrebbe esserci. Non c'è. This. Final. Text. In questo modo. E qui non metteremo la scritta, ma metteremo text. Ma ovviamente ci sarà anche la pressione del bottone. Quindi, sappiamo già, qui mettiamo un final. Function. OnTap. E anche questa bisognerà che portiamo qui dentro. Qui, spunto. OnTap. E quindi, qui. OnTap. E avremo creato il nostro, diciamo, bottone stilizzato custom. Ok? Quindi avremo un bottone che possiamo divertirci. Magari possiamo colorarlo in maniera differente. Ritorniamo. Cursis. Quindi qui, invece di metterci le vetted button, possiamo metterci lo YouTube button. Quindi, qui video 1. E qui, invece di metterci così, metteremo una funzione vuota. E lo stesso faremo qui. In questo modo. Lo preset abbiamo deciso di non fare il positioning. Il named, scusate. Ma è di tipo posizionale. Quindi, qui ci mettiamo la nostra funzione vuota. E qui facciamo la stessa identica cosa. Adesso, se facciamo un aggiornamento. Ecco, i bottoni sono tutti rossi. Ma, questo stile di bottone, magari, non ci piace. Magari vorremmo averlo diverso? Eh, semplice. Andiamo qui. A parte che questo non è più custom button, ma è YouTube button. YouTube button. Ok, in questo modo. Allora. Possiamo andare a stilizzarlo ulteriormente. Magari vogliamo cambiare un pochino il layout. Quindi possiamo metterci un padding. E il padding, se andiamo a vedere. Allora, mentre il margin era di fuori, il padding è all'interno. Più o meno come funziona in HTML5, no? Quindi, qui possiamo fare un edge inserts. E qui ci mettiamo un tipo simmetrico. Magari ci mettiamo che orizzontalmente voglio avere una lunghezza di 40 pixel. Potremmo avere un padding di 40 pixel e verticalmente voglio avere un padding di 10 pixel. In questo modo. Andiamo a vedere un attimino. Non è cambiato più di tanto. Potremmo anche decidere di cambiare proprio lo stile del bottone. Quindi qui possiamo metterci ad esempio lo shape. e definire questo shape. Invece di essere così stondato, vogliamo cambiare il border radius. E qui sul border radius dire che tutti gli spigoli hanno un radius circolare di 2 pixel. Andiamo a fare un refresh ed è saltato fuori più o meno quadrato. Il padding definisce quanto c'è di distanza tra il child e il resto del componente, del widget. Lo shape diciamo che se io qui non mettevo... Praticamente se metto così dovrebbe andare lo stesso. Esatto. Se metto il baby level e il rectangle border è quadrato. Se voglio un po' di smussamento gli dico che c'è un border radius su tutti gli spigoli. E gli dico di 2 pixel. Se notate c'è un piccolo sfondamento. Va bene. E quindi abbiamo stilizzato il bottone. Però prima vi ho fatto creare il data, i model e ancora non li stiamo usando. Però stiamo creando intanto l'interfaccia diciamo. Ora siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo ai nostri corsi. Stilizziamo un attimino anche il titolo diciamo. Quindi qui mettiamo textile. E ci mettiamo un color black magari 87. E un font size. Possiamo mettere un 48. Vediamo, vediamo. Iniziamo con... Se vi ricordate qui, mycurses. Abbiamo due project. Iniziamo intanto con uno. Per gestire un solo elemento del primo array. Quindi, qui definiamo final project uguale cursis, mycurses invece, quadra 0. In questa sintassi, con le quadre, sto dicendo di questo variabile mycurses, che è questo final, prendi il primo elemento, che sarebbe questo. Prendi il primo elemento. Così non lo possiamo fare. Quindi, qui, lo togliamo via. Al momento lo togliamo via. Ok, quindi abbiamo definito project. E per il project vogliamo far vedere, per ogni elemento di project, un bottone YouTube. Allora, se andiamo a vedere l'array, questo list, dart ci dà parecchie funzioni. Sì, vado a prendere project, punto. Ovviamente qui non posso prenderlo, però posso prenderlo qua. Project, punto. Videos. Che a noi ci interessa più che altro l'array di video, perché dobbiamo fare tutti quanti gli elementi di bottoni. Come vedete, ci sono veramente molti metodi sulla lista di video. Ad esempio, posso cercare il primo elemento. Il primo elemento, oppure niente. Posso aggiungere un elemento, aggiungere un array di elementi. Un po' più, un po' quello che si trova anche negli altri linguaggi di programmazione. Cosa ci serve dei video che dobbiamo far vedere qui? Dobbiamo, per ogni elemento di video, far vedere il bottone. Allora, abbiamo questi tre bottoni. Al momento commentiamoli tutti e tre. Quindi qui, vi ho fatto vedere prima, in dartpad, che si possono aggiungere elementi in una lista e anche con un valore ternario. In questo momento, però, cosa vogliamo fare? Dato project, per ogni elemento di video, vogliamo farci ritornare uno YouTube button. Qui, tra i vari metodi dell'array, c'è questo map. Lasciamo appare per il momento questo. Il map è come il map dell'HTML, cioè, itera per ogni elemento presente in questo array e lo assegna questa variabile, che chiameremo course. E, su questa variabile, noi possiamo creare del codice e dobbiamo ritornare un bottone. Quindi qui faremo un return YouTube button. Il testo, mettiamo course. Curs, scusate, perché course è una stringa. E qui, possiamo mettere graffa e graffa. O anche null. Però, vedete, continua a darci un errore. Perché? Perché questo map ritorna, ritorna a Night Terrible. E questo dart, soprattutto in array, gli dà un po' fastidio. Quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo, e poi, peraltro, questo map, anche se lo riuscissimo a convertire in un array, metteremo un array all'interno di un array. Quindi dovremmo, invece, tutti questi elementi, metterli in questo modo, noi all'interno di un array. E come si fa? Dart ci dà la possibilità di fare quello che si considera uno spreader projector. E vedete che, intanto, l'errore è sparito. Con questi tre puntini, diciamo che questo array deve essere spasso e messo come un singolo elemento, come abbiamo fatto l'esempio prima. Se adesso salvo, e andiamo a ricaricare, ecco qui tutti quanti i corsi. Ora, lo vedremo fra pochi istanti come risolvere questo problema. Al momento, commentiamo qualche corso. Rifacciamo la load dell'applicazione. Ok. Ecco qua. Benissimo. Così, un problema alla volta. Adesso, vedete, abbiamo, per ogni elemento dell'array, è stato creato un bottone e l'ha messo dentro il mio cursis. Ora, già inizia a prendere forma. Sistemiamo un attimino, magari, mettiamo un po' a posto questa schermata. Allora, visto che ci saranno tanti corsi, questo deve essere spostato tutto quanto in su. Quindi, mettiamoci start. Quindi, viene spostato di start. Qui, magari, la ginset, mettiamo un all, e mettiamo 40. in maniera tale che sia un po' centrato. Benissimo. Già così inizia a prendere forma. Questo cursis è il titolo. Allora, lo allineiamo al centro. Il 48 va bene. Il project non è che mi piace granché. E peraltro, qui, in questo momento, stavo facendo vedere soltanto un corso, no? Perché abbiamo preso questo final con il project, ma i cursis è zero. Qui, su questo project, vorrei metterci la freccetta a sinistra e a destra per poter scorrere i diversi progetti. Ora, all'interno del column, però, qui, abbiamo il project e ci vogliamo mettere sulla stessa riga del project l'icona a sinistra e l'icona a destra. Come faccio? Qui, invece di fare il text solo, facciamo un wrap e invece di usare il column useremo il row. Quindi, sulla stessa riga possiamo mettere più widget. Allora, il primo widget che noi vogliamo mettere è un icon button. Per metterci la freccetta di sinistra, qui vediamo un nuovo widget, l'icon button. Ovviamente, la funzione compressed che è required e l'icon è un widget. Quindi, qui, cosa ci possiamo mettere? Icon di icon icons e questo l'abbiamo visto prima, left e ovviamente dopo questo testo ci mettiamo l'arrow right right. Andiamo a fare un refresh. Benissimo. Però, tutto quanto schiacciato a sinistra invece noi vogliamo che prenda tutto lo spazio la freccetta a sinistra a sinistra la freccetta a destra a destra e come facciamo? Main access alignment main access alignment space around facciamo un aggiornamento ecco, l'accentrato in realtà space around non mi piace che proviamo lo space between vediamo ecco, decisamente meglio che ne pensate? ok ora però premendo questi due pulsanti a questo punto il widget non può più essere di tipo state ma sarà di tipo state full no? perché cosa faremo? Quando premeremo il pulsante andrà prima su un progetto poi sull'altro quindi questo andiamo qua sopra c'è la possibilità di convertirlo in state full lo clicchiamo ecco qui ha creato per noi il course si è diventato di tipo state full a questo punto ormai avrete capito creeremo due funzioni una sarà per andare avanti e una sarà per andare indietro no? quindi andremo a cambiare che cosa? l'indice di questo ma il course se no qui adesso abbiamo messo un indice che è 0 noi cosa facciamo? non facciamo nient'altro che andare a definire una variabile qui var current project index che è uguale a 0 vabbè dopo le definiamo le funzioni a questo punto il project lo andiamo a portare dentro il build qui non metteremo più 0 ma metteremo current project index benissimo quindi andiamo a creare le nostre due funzioni una di next course e una di previous course next course quindi qui ovviamente a questo punto possiamo fare lo set state current project index più più e questa è un'altra cosa che non abbiamo visto potevo fare current project index current pro current project index è uguale a current project index più 1 primo modo oppure potevo fare current project index più uguale 1 oppure più più allora questo è prendere lo stesso valore del current project index ci aggiunge 1 e lo assegna a current project index qui fa la stessa identica cosa cioè il valore che c'era qui ci aggiunge 1 e lo riassegna col più più diciamo di fare un incremento di 1 di questa variabile è la stessa cosa questi tre modi è sempre la stessa cosa all'interno del set state nel previous course facciamo esattamente prev course set state current project index meno meno come c'è il più più quindi chi incrementa col meno meno decrementa a questo punto qualcuno potrebbe dirmi ma dovrebbe fare il controllo dell'indice no perché andiamo a modificare quelli iconcine allora intanto abbiamo detto questa è l'icona di previous quindi qui ci sarà il prev course e qui invece ci sarà il next course salviamo e rilanciamo benissimo se adesso clicco la vedete funziona se vado avanti di un altro va in errore perché come dicevo prima qualcuno poteva dirmi eh ma non fai controllo se sei all'interno dell'array oppure no giusto ma non l'ho fatto perché andremo a fare un controllo sulla posizione dell'indice cosa significa che qui nel caso in cui current index sia 0 non posso tornare indietro quindi e facciamo cosa facciamo usiamo un operatore alternario quindi è uguale a 0 se è uguale a 0 ci mettiamo un sized box magari qui ci mettiamo un sized box oppure ci mettiamo il bottone in questo modo qui facciamo lo stesso operatore alternario ma usando la proprietà length e del dell'array cioè noi dovremmo andare a vedere current project index è maggiore della lunghezza dell'array se è maggiore allora ah se facciamo al contrario se è minore se è minore di mycurses punto length quindi andiamo a vedere un attimino l'ent andiamo a vedere cosa dice niente ok il numero di oggetti in questa lista e qui fa un esempio guardate se io ho tre elementi nella lista il length mi ritorna a 3 quindi il current project però va per l'elemento su base 0 all'interno dell'array quindi quando sono a 1 questo vi segna 2 finché tanto che questo è minore e facciamo vedere sempre il bottone in realtà quando siamo a 1 siamo già alla fine dell'array quindi non dobbiamo più farlo vedere il bottone quindi length meno 1 se è minore di meno 1 best size box altrimenti l'icona salviamo facciamo un refresh ovviamente adesso qui devo aver sbagliato sicuramente qualcosa è certo ho messo un uguale deve essere maggiore aspettate ho sbagliato qualcosa allora se è maggiore devo farlo vedere ho invertito i bottoni se l'elemento è maggiore di 0 ah questo è invertito io ho sbagliato se è maggiore di 0 devo far vedere il bottone quindi qui ci mettiamo questo altrimenti un best size box magari mettiamolo così e lo capiamo di più allora se è un elemento maggiore di 0 possiamo tornare indietro qui se è minore allora ho invertito le condizioni perfetto direi mettiamo l'icona altrimenti size box magari mettiamolo a capo ecco qua rinfreschiamo ah ok quindi se vado avanti mi fa vedere il project 2 se vado indietro project 1 intanto vedete abbiamo fatto questa cosa ora è ancora un po' bruttino da vedere perché appunto abbiamo raw però vedete si sposta il testo del progetto a sinistra a destra peraltro qui project a questo punto ci possiamo mettere my courses dell'elemento del current project index punto project name in realtà è da far vedere su quale progetto sono quindi angular flutter perfetto ora non è proprio ancora ottimale perché appunto diciamo che viene spostato ma questo viene spostato perché perché il sized box che mettiamo ci dobbiamo mettere una larghezza ok quindi una larghezza magari definita possiamo provare a vedere di metterci una larghezza di 40 vediamo quindi di simulare una specie di bottone potremmo anche disabilitarlo però vabbè ecco dai già meglio c'è ancora qualcosa che non mi convince però se stiamo arrivando gli sgoccioli abbiamo ancora due tre cose da vedere va bene quindi siamo arrivati a vedere gli elementi dei corsi ora sistemiamo ancora un po' di più la schermata questi font non mi piacciono granché voglio avere dei font magari un po' più particolari quindi dei font magari che magari dei font più carini magari più stilizzati più ora vi faccio vedere qui su flutter dev ecco qua come usare un custom font custom font allora se andiamo giù qui dicono eccolo qua nello YAML ad esempio tu puoi mettere i custom font dentro una cartella nello YAML decidi di importare soltanto alcuni font e a quel punto lo puoi utilizzare all'interno dei tuoi widget seguite questa guida e siete a posto ma c'è un modo un po' più semplice ed è se io vado sul sito pubdev qui questo sito è praticamente un motore di ricerca di tutti i pacchetti che sono disponibili su flutter quindi ad esempio se io qui cerco google fonts ecco qui mi dà questo pacchetto che praticamente ci sono tutti i font di google guardate fanno un esempio e che possiamo utilizzare nella nostra applicazione come si fa a usare se andiamo a vedere l'installing qui mi dice di usare flutter pub ad google fonts andiamo a farlo stoppiamo la nostra applicazione stoppiamo la nostra applicazione andiamo nel terminale eccolo qui benissimo quindi facciamo flutter pub ad google fonts lanciamo adesso ci impiega poco e qualcosa ha fatto che cos'è che ha fatto non ha fatto nient'altro che ad andare sul pub spec dove è dove eccolo qui ci ha aggiunto nelle dipendenze il pacchetto google fonts alla versione 621 non solo ha fatto anche un flutter pub get mi avete visto ogni tanto prendere questo quando si aggiunge qualcosa qui ad esempio aggiungo un altro pacchetto a mano via dicendo fare il pub get perché perché scarica il pacchetto effettivamente e lo applica al progetto diciamo che c'è una cartella dove ci sono tutti quanti i pacchetti che io ho scaricato se guardate è questa cartella external library e qui dovrebbe esserci eccolo qua google fonts quindi se volete andate a vedere qui google fonts c'è anche sorgenti eccolo qua qui potete andare a vedere come hanno fatto questo pacchetto benissimo iniziamo a usare questi google fonts quindi ad esempio questo cursis che è già da prima che non mi piaceva granché possiamo utilizzarlo un pochino possiamo ad esempio qui questo dove è eccolo qui su questo cursis vogliamo utilizzarlo un po' meglio come facciamo cancelliamo tutto questo textile facciamo google fonts cosa ha fatto ha importato qui il google fonts punto e qui cosa possiamo usare ad esempio il satisfy vedete sono tutti quanti font disponibili salviamo e guardate ecco già inizia a prendere un po' più di colore magari qui ci mettiamo un blu salviamo ripreschiamo ecco qua già inizia a prendere un po' più forma a questo punto anche il project il project name qui magari possiamo iniziare a cambiare se lo trovo eccolo qui è vero non l'abbiamo ancora stilizzato quindi facciamo style google fonts punto qui ci mettiamo un ubuntu e la dimensione la facciamo un po' meno grande font size che non gli piace 4 andiamo a salvare inizia a prendere un po' più forma vedete com'è semplice quindi abbiamo importato il pacchetto e l'abbiamo applicato ognuno ovviamente ha i suoi i suoi modi va bene quindi abbiamo importato il nostro primo pacchetto e l'abbiamo anche già usato ora ci rimane da fare il link qui su youtube ovviamente dobbiamo andare a cambiare anche un pochino il modello perché nel modello se andiamo a vedere la lista dei video era soltanto una stringa e la stringa a dire il vero non va cioè dobbiamo far vedere il titolo e poi abbiamo bisogno di un'altra proprietà che sarebbe il link youtube inoltre un'altra cosa che vogliamo fare è metterci il bottone di back cioè da questa schermata voglio tornare la schermata principale allora che facciamo facciamo così mettiamo prima il pulsante di back e poi andiamo a modificare i video su youtube andiamo a vedere i video su youtube allora ritorniamo qui ci mettiamo un ulteriore pulsante che faremo con la funzione vuota poi andiamo a vedere che cosa fare che mettiamo qui text home perché l'elevated button non gli ah perché qui manca una virgola salviamo andiamo a vedere home perfetto ora non è che proprio mi piace granché neanche questo e però facciamo così intanto ci mettiamo un bel icon quindi ci mettiamo la label è questo poi ci mettiamo l'icona e qui ci mettiamo un icon icon icons punto arrow back benissimo andiamo a vedere come salta fuori qua c'è l'iconcina e sterilizziamolo un attimo magari facciamo ancora una formazione del codice style elevated button style from background color facciamolo trasparente vogliamo farlo diventare triple link ok con questo questo qui mettiamo zero l'elevation ottimo è saltato fuori come come quasi come un link vabbè a questo punto qui a questo punto lo dobbiamo far diventare più o meno come abbiamo fatto quello start screen cioè avevamo una funzione di change screen quindi dobbiamo fare più o meno la stessa identica cosa guarda facciamo così copiamolo qua ora qui però siamo su un stateful widget non siamo dentro uno stateless widget mentre prima eravamo dentro lo stateless widget ed era molto semplice ora siamo in uno stateful widget e come faccio a farmi passare una function a uno stateful widget allora tanto vabbè facciamo questo in colla visto che ce l'avevamo in canna dobbiamo farcelo passare qui quindi definiamo la funzione change screen anzi non sarà change screen ma sarà un back to home screen e qui ce la facciamo passare qua dentro this punto back to home screen in questo modo cancelliamo sta cosa adesso dobbiamo nell'ender page passare la funzione facciamo qui una back to home screen facendo set state active screen uguale start screen ovviamente c'è un modo migliore per fare le pagine in platter questo è proprio il scopo didattico ok e qui passiamo il back to home screen ottimo ma su cursus ovviamente anche se io faccio la reload qui dobbiamo agganciare questa funzione all'interno del bottone come faccio ora se nel bottone che è questa qua sotto provo a dirgli il back to home screen ovviamente non c'è perché devo trovare un modo per passare a qui allora lo state definito in questo modo ci dà un parametro si chiama widget dove all'interno del widget ci sono le funzioni passate al nostro widget quindi al nostro widget principale noi avevamo qui il back to home screen ed eccolo qui e noi lo associamo direttamente all'home preset se salviamo e ricarichiamo adesso abbiamo home cursus home cursus posso iniziare a navigare nella mia applicazione però prima avete visto qui con questa variabile di tipo stringa mi sono confuso diverse volte con lo start screen poi che facciamo se aggiungiamo un'altra schermata faccio un'altra funzione è meglio farne una sola una sola e magari che non mi sbagli con le stringhe perché magari sto lavorando in una pagina ennesima non voglio proprio dovergli dire qual è la schermata di destinazione no? quindi risistemiamo un attimino questo ender pages quindi che possiamo fare intanto intanto possiamo generalizzare questa questa function quindi togliamo via back to screen e qui possiamo mettere string to screen no? quindi la schermata di destinazione qui ci mettiamo to screen ovviamente qui le funzioni non vanno più bene perché qui chiamavamo il change screen anche qui qui chiamavamo back to home l'abbiamo cancellata quindi chiamiamo change to screen però mi dice guarda che manca questa qui è diventata una funzione che ha string invece qui è una funzione tipo senza parametri certo quindi andiamo qua questo change screen ci passiamo anche il parametro to screen in questo modo ma a questo punto qui non posso più fargli riferimento alla funzione direttamente senza passargli il parametro devo passargli il parametro quindi come faccio è semplice faccio ritornare di nuovo una funzione così e a questo punto change screen e qui gli passo il parametro qual era il parametro era cursis cursis ecco qui e questo abbiamo sistemato sistemiamo l'altro qui cursis la stessa identica cosa avevamo qui dobbiamo passargli un parametro che è to screen in questo modo e ovviamente anche nel widget che abbiamo definito prima dobbiamo dirgli intanto cambiamola il nome non è più back to screen ma è change screen quindi è change screen dobbiamo passargli il parametro e anche qui a questo punto la facciamo diventare una funzione in questo modo quindi start screen questa è change screen ok ricarichiamo vediamo se continua a funzionare benissimo però vedete anche prima mi stavo confondendo qui con questa stringa poi non è che sia proprio un fan delle stringhe fatte in questo modo quindi che possiamo fare andiamo di nuovo sull'enter pages e cambiamo un attimino il tipo di variabile introduciamo una cosa nuova che è le num e num screen così anche quando aggiungerò nuove schermate ce l'avrò qui avrò a disposizione non avrò più il problema delle stringhe potevo definire anche le costanti però molto meglio usare le num quindi home screen home page home page e e curs cursis ecco usiamo a questo punto screen ora qui sarà screen punto home page qui non sarà più string ma metteremo screens e qui abbiamo risolto ci rimangono gli altri due quindi le start screen questa funzione andiamo a cambiarla andiamo a importare le num e a questo punto qui dobbiamo dirgli che cosa screen cursus abbiamo già migliorato la cosa andiamo anche già che ci siamo a usare i const da qualunque parte eliminiamo tutte queste righette perfetto qui mi sta dicendo che posso eliminare il this ottimo e dopo andiamo a sistemare anche il cursis perché anche il cursis qui vuole più una stringa ma vuole screen no screen ho usato screen com'è che l'ho chiamata screens devo chiamarla pages va bene importiamo la libreria eccola qui e che poi l'ho chiamata change scene nessuno che mi dice niente rename change screen change screen andiamo qui change screen e qui mettiamo screens punto home page e così non ho più problema di sbagliarmi riformattiamo un attimo il codice ottimo e andiamo a dirgli anche qui aggiungerci i cost dalla lentina aggiungere i cost dappertutto perfetto e così abbiamo eliminato tutti i problemi ora rimane di metterci il link ai vari bottoni andiamo nel nostro project model a questo punto qui la stringa sul video non va più bene dobbiamo estendere un attimino la cosa cosa ci possiamo fare ci aggiungiamo un'altra classe class di tipo youtube link dove avremo come l'ho scritto youtube link dove youtube ce la farò youtube link dove metteremo final string name o title mettiamo title così poi un final string url link lo facciamo opzionale perché perché vi ho detto prima non tutti quanti i video sono su youtube andiamo crearci il costruttore facciamo così così però l'url link lo facciamo di tipo named in maniera tale che il title è obbligatorio l'url link no benissimo andiamo qui a questo punto non qui ma qui prima dobbiamo dirgli che non è più tipo string ma è un tipo di youtube link a questo punto dobbiamo sistemare un po' di cose allora questo youtube link facciamo così questo è youtube link in questo modo abbiamo mettiamo le parentesi 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 e anche qui le parentesi se ci siamo mettiamolo mettiamolo pure qua mettiamolo pure qua ce la posso fare ecco qui mi preparo per dopo qui la stessa identica cosa ok e qui chiudiamo benissimo quindi abbiamo esteso il link a questo punto nei cursis qui mi dice curs non va più bene perché lui si aspetta un parametro link ma è un parametro stringa ma a questo punto mettiamo title benissimo rilanciamo tutta la nostra applicazione e non dovrebbe essere cambiato niente invece no è cambiato qualcosa perché premendo start screen non va dove dico io che abbiamo combinato allora in realtà qui è giusto ah mi sa che nell'enter pages eh sì certo qui stavo facendo change screen ma questo è l'errore allora l'active screen è le num eccolo qua l'errore quindi se active screen è screen punto cursis andrà sul cursis facciamo reload adesso è ok è tornato a funzionare come prima quindi funziona tutto benissimo ora dobbiamo metterci il link youtube e dobbiamo far vedere dobbiamo far vedere il video allora intanto andiamo qui nei corsi ci andiamo aggiungere anche il link quindi ad esempio per il data binding ci mettiamo questo per le direttive ci mettiamo questo per i servizi ci mettiamo questo e infine per rxjs ci mettiamo questo per il momento sono arrivato questi video qua una volta che abbiamo i video dobbiamo farli vedere quindi che facciamo facciamo come prima ritorniamo nel nostro nel nostro pubdev e qui cerchiamo e cosa cerchiamo url launch cioè noi abbiamo l'url vogliamo farlo vedere ecco questo pacchetto non fa nient'altro che aprire il link dall'app andiamo a vedere come si installa anche qui ci dice di latter pub ad url launcher quindi torniamo nella nostra applicazione fermiamo andiamo sul terminale latter pub ad url launcher andiamo ad aggiungerlo benissimo rilanciamo l'applicazione ogni volta che aggiungete il pacchetto mi raccomando fermatela aggiungete il pacchetto fate flutter pub get e poi rilanciatela nei cursis quindi qui avevamo definito lo youtube button e qui avevamo la function ora ritorniamo un attimo nel nell'url launcher se andiamo a vedere c'è un esempio di come funziona l'url launcher non fa intanto che lanciare vabbè c'è il cal launch non ci importa in questo momento eccolo qui launch url quindi possiamo lanciare l'url sulla stringa cioè lanciare significa possiamo aprire quel link della nostra app faccio prima farvelo vedere ok qui siamo youtube ovviamente se il corso ha il link course urlink se ce l'ha farò qualcosa altrimenti non farò niente allora se l'urlink non è null che facciamo facciamo quel url launcher facciamo il launch url qui andiamo a importare l'url launcher il link è course punto url link e il mod mettiamo mettiamo qui il mod in app web view qui mi sta dicendo che il tipo opzionale non va però noi abbiamo già fatto il controllo quindi qui dobbiamo vedergli un uri uri significa serve per codificare ad esempio una stringa un parametro di tipo proprio uri lo mettiamo qui dentro e sì così non funzionerà mai punto parse eccolo qui ovviamente url link punto esclamativo il mod lo lasciamo così qui non ci può essere la virgola ma il punto e virgola andiamo a fare una prova andiamo a vedere se funziona adesso clicco cursis data binding e apre eccolo che l'applicazione in app benissimo ottimo se vi ricordate prima avevamo il problema che se c'erano troppi corsi anzi andiamo a riabilitare così vediamo proprio il problema se andiamo a riabilitare tutti i corsi facciamo un refresh andiamo a riabilitare il refresh eccolo qui ecco vedete qui mi sta dicendo che non ci sta nel telefono cioè sta andando sotto per risolvere questo problema cioè sta facendo un overflow sta facendo un overflow di parecchi pixel risolviamo questo problema vi faccio vedere l'ultimo widget della serata in particolar modo dovremmo andarlo a mettere qui cosa andiamo a usare qui andremo a usare una list view quindi qui faremo list view list view serve per creare delle liste è un widget di viste in particolare qui faremo il builder allora questo builder ha l'item builder comunque non vi preoccupate lo rivedremo con più calma ma era per completare la serata vedendo un altro widget ancora lasciando per il momento l'item builder che lo rifletteremo fra 5 secondi uno dei parametri essenziali che lo mettiamo subito così capite subito come funziona più o meno il builder è l'item count l'item count è quanti elementi ci saranno in questo list view e noi lo sappiamo perché abbiamo il project punto videos punto length quindi questi è il numero di elementi dopodiché per ogni elemento eseguirà questa funzione questo item builder eccolo qua ralasciamo al momento il context ma quello che dobbiamo ritornare qui è fare un return di questo e ok dobbiamo fare il return di questo youtube esatto questo lo possiamo cancellare cancelliamo anche questo allora ci manca il course perché perché abbiamo questo contest da un build contest al momento ignoriamolo però abbiamo l'indice l'indice lui ciclerà creerà eseguirà questa funzione per n volte e quindi che facciamo non facciamo nient'altro che fare e course uguale project videos index in questo modo e a questo punto abbiamo fatto una list view salviamo facciamo un reload e qui mi sta dando un altro problema ora se riusciamo da questo ciclo facciamo un reload not reload ok se andiamo qui comunque sia mi da un errore solo che non riesco a farvelo vedere vediamo se me lo fa vedere ok mi sta dando un errore non riesco a farvelo vedere eccolo qua mi sta dicendo che questa list view non riesce a farla stare dentro il nostro layout la rivedremo con più calma ma questa list view fatta all'interno di un column non sa come come gestirla vi faccio vedere la soluzione ma vi ripeto la rivedremo con più calma qui ci mettiamo un expanded l'expanded non sta nient'altro che per prendere tutto lo spazio disponibile lo rivedremo meglio anche con anche questo la prossima volta andiamo su cursis e vedete che il problema non c'è più non vi fidate facciamo così cancelliamo qua facciamo un clear rifacciamo un reload ma rivedremo con più calma queste due cose però volevo farvi vedere intanto la list view anche l'expanded che espande tutto quanto l'elemento e adesso abbiamo una lista che è scrollabile ma non solo con i bottoni che fanno vedere e il video ci sono anche altri modi però vabbè in questo commento volevo farvi vedere così peraltro si è sistemato anche il platter qui il bottone che avevamo prima allora io vi saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.